Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Bassa pressione in avvicinamento alla nostra penisola. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 27 novembre. Locali pioggia al mattino su Liguria Occidentale, coste Toscane e Sardegna. Asciutto altrove con nebbie e nubi basse sulla Val Padana. Al pomeriggio pioggia e acquazzoni anche intensi sulla Sardegna, locali fenomeni tra Bassa Toscana e Alto Lazio. Variabilità asciutta altrove. In serata e nottata maltempo contemporali sulla Sardegna. Peggiora anche su Sicilia, Liguria e Basso Piemonte. Nuvoloso ma asciutto altrove. Temperature minime e massime stabili o il lieve aumento su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Grazie a tutti.